Un trader e un investitore professionista, ragazzi, non ragiona sui profitti, ragiona sul rischio. Perché adesso, ragazzi, è importante parlare di distribuzione del denaro? Perché di denaro ne stiamo stampando tanto, lo sappiamo, le banche lo stanno facendo da tanto, tanto tempo, quindi non è assolutamente una novità e so che sto qui a non dirvi quelle che sono ormai delle ovvietà. Bene, quello che dobbiamo capire è, fatemi usare una metafora per spiegarvi che cosa si intende per distribuzione di denaro. Avete presente quando, immaginate di avere un bicchiere, no? Nel bicchiere, quando ci mettete l'acqua, che cosa succede? Che l'acqua si distribuisce perfettamente, immediatamente, appena la mettete, si distribuisce all'interno del bicchiere, occupando tutta la sua parte. Bene, se fate la stessa operazione con il miele, che ovviamente ha una densità diversa, che cosa succede? Succede che il miele cade nel bicchiere e comincia a posizionarsi al centro del bicchiere. Solo lentamente successivamente, che cosa farà il miele? Si distribuirà ai lati. Bene, questo è il meccanismo, spiegato appunto da Cantillon, denominato il cosiddetto effetto Cantillon, è il meccanismo di trasmissione del denaro. Tanto più si è vicini al re, tanto più saranno i benefici che se ne potranno avere dal punto di vista finanziario, perché la distribuzione del denaro comincia dal centro. Quindi quello che diceva Cantillon dal punto di vista economico, ragazzi, era che la circolazione del denaro non è neutra, non è certamente equa, e non è distribuita in maniera uniforme. Ovviamente adesso non c'è più il re, adesso che ci sono le banche centrali che stampano denaro, questo denaro dove va a finire? Va a finire all'interno delle casse delle banche, le banche, perché inietta denaro e abbassa i tassi, le banche centrali lo fanno per stimolare l'economia. Quindi si aspettano che le banche prestino soldi a chi? A noi, a noi cittadini, per poter comprare, per poter investire, e alle aziende per investire e per crescere, quindi per stimolare l'economia. Però quello che succede è che banche centrali e banche che rappresentano il centro di questo bicchiere è dove abbiamo la prima distribuzione. E sta passando troppo tempo, ragazzi, e lo dico andando a vedere quali dati. Velocity of money, quante volte abbiamo visto il grafico della velocity of money e abbiamo visto questo grafico essere a livelli bassissimi? E poi i prezzi del cibo, i prezzi della benzina aumentare, abbiamo visto l'inflazione, abbiamo visto il segmento M2, il broad money supply, crescere del 13-14%. Insomma, ragazzi, questa è una questione a cui bisogna stare molto attenti. La distribuzione che abbiamo visto finora non è stata uniforme, non è stata equa, e questo potrebbe voler dire che ci sono ancora ampi spazi, nel caso in cui cominci, come fai il miele, a distribuirsi, ampi spazi che l'inflazione possa aumentare ancora di più. Andiamo un secondo a vedere, volevo farvi vedere il Baltic Dry Index e lo Shanghai Container che avevo da qualche parte salvato. Eccolo qui, eccolo qui, lo Shanghai Containerized Fright Index, Fright Index in realtà, che, ragazzi, guardate che valori ha toccato nell'ultimo periodo. Siamo a valori altissimi, guardate com'è cresciuto, questo è il costo dei container a Shanghai. Ma non solo, vi faccio vedere anche il Dry Index, il Baltic Dry Index, Baltic Dry Index. Vedete come questi indici continuano, aspettate che metto a linea, che così lo vedete meglio, continuano ad aumentare. Guardate a che livelli siamo arrivati, guardate, metto il settimanale, che così lo vedete meglio. Ecco, guardate qui dove eravamo nel 2018-19, vedete qua i prezzi, guardate dove siamo adesso. E con dei prezzi del genere, per spedire le merci, con la lentezza con cui vengono spedite, con le problematiche della catena di approvvigionamento che ormai conosciamo bene, secondo voi, ragazzi, tutto questo che cosa ci sta dicendo? Ci avete fatto caso, ragazzi, come nell'ultimo periodo abbiamo avuto un dollaro forte, ma delle materie prime che non hanno risentito e subito così tanto la forza del dollaro. Questa è una considerazione importante dal punto di vista di chi in maniera quantitativa legge i dati e cerca di capire dai dati come questi dati stanno impattando e stanno, diciamo, confluendo sul mercato finanziario. Questa è una considerazione importante. Un'altra considerazione importante, ma ci avete fatto caso che in questa discesa, in questo ritracciamento, ragazzi, perché il 5% non possiamo chiamarlo in altro modo. Guardate, vi faccio vedere quello che vi ho fatto vedere ieri essere successo negli Stati Uniti. No, ieri vi avevo messo questa slide qua. Vedete la flessione degli indici. Ragazzi, la flessione dell'S&P 500 è stata del 4,93% nell'ultimo mese, nel mese di settembre. Il Nasdaq ha perso il 5,78%. Sì, ieri è sceso di altri due punti percentuali, ha fatto un 7%, quindi discesa. Il Dow Jones Industrial ha fatto il meno 4,58%. Il Transportation, Dow Jones Transportation ha fatto il meno 4,50%. Il Russell, vi ho detto ieri, questa è un'altra bella considerazione, perché il Russell ha fatto solo il meno 3%. Allora, questa è una cosa che mi interessa notare. Ma come le small cap, che in stagflazione, quindi in un regime economico di stagflazione, tendono ad avere performance inferiori rispetto ad altri asset, sono andate invece bene. Si sono difese meglio, hanno perso due, tre punti percentuali in meno dell'S&P 500 o del Nasdaq, dei suoi più grandi fratelli. C'è qualcosa che il mercato, dal punto di vista finanziario, quindi che c'è dietro ai mercati, ci sta dicendo, e vi faccio vedere anche, vi ho fatto vedere ieri anche l'Europa, no? Con il DAX, eccetera. Ragazzi, queste sono flessioni fisiologiche. Non avevamo una flessione del 5, 6, 7% da più di 12 mesi. Non è sano un mercato che non scende, almeno di questa intensità. Considerate che statisticamente ogni due o tre mesi, i mercati tendono a scendere di almeno il 5%, ok? Quindi il 5%, è una discesa che abbiamo più volte l'anno. È stato strano non avercela in questi 12 mesi. Vi ho parlato prima di small cap. Guardate questa scheda. In questa scheda vi metto a confronto i rendimenti degli ultimi 12 mesi, ragazzi, tra le small cap e le large cap. Quindi abbiamo i vari settori, alla vostra sinistra vedete, energetico, finanzias, industrias, technology, basic material, consumer discretionary, healthcare, consumer stable e utilities. E a sinistra, la prima riga della nostra tabella, sono le large cap. A destra abbiamo le small cap. Guardate settore per settore la differenza che c'è stata in termini di performance, di profitto. Sull'energetico, XLE, large cap, ha fatto l'85%. PSCE delle small cap, stesso settore, ha fatto il 167%. Prendiamo le utilities. Le utilities negli ultimi 12 mesi hanno fatto il 6,5%. Tra l'altro, lasciatemi dire, di questo 6,5%, una bella raddrizzata gli è stata data nell'ultimo trimestre. Perché nell'ultimo trimestre, in stagflazione, quando siamo stati in stagflazione, le utilities hanno performato meglio. Cosa che adesso cominciano a soppicare. Cominciano a non riuscire più a performare. Però, utilities più 6,5% per le large cap, le small cap hanno fatto il 46,2%. Sono queste le cose su cui dobbiamo stare attenti. Queste analisi, queste sono schede che teniamo aggiornati, tengo aggiornate per il mio processo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, perché voglio avere una big picture molto precisa. Voglio sapere in maniera sintetica cosa succede. Ecco perché questa scheda qua, quest'altra scheda qua, queste sono schede, ragazzi, che vi sto facendo vedere, ma di cui io tengo traccia durante la mia attività e che vengono aggiornate durante la mia attività. Perché queste informazioni sono preziosissime, sono utilissime. Però torniamo un secondo qui, ragazzi, sui grafici. Perché volevo fare un'altra considerazione, non qui sull'oro, e volevo invece farvi vedere, e volevo parlarvi un attimo della Cina. E in particolare, andiamo un secondo a vedere. USDCHN, perché sembra proprio... Ops... CNH, quindi la valuta cinese, ragazzi. Perché, vedete che qua siamo in un territorio ribassista da molto molto tempo, no? Vedete qua, il dollaro ha perso molto dal punto di vista del tasso di cambio nei confronti della Cina, però poi è successo qualcosa. Si è formato un po' questo pavimento. Questo pavimento, tra l'altro, coincideva con la netline di un bellissimo testespalle, che è stato si è rotto, ma è stata una falsa rottura e il prezzo è tornato dentro. Ma non è che il governo cinese, in tutto questo momento di grande rivoluzione, vuole dare un segnale e un messaggio al proprio popolo, creandogli, sostenendo una moneta forte, che aumenta quindi il potere di acquisto del popolo e che quindi aumenta la possibilità di spendere localmente, internamente. La Cina, ragazzi, è barricata, è completamente chiusa, non si può viaggiare in Cina, è molto difficile uscire e rientrare anche per i cinesi e quindi tutto quello che sarà consumer spending avverrà all'interno della Cina. E allora perché non dare al popolo la possibilità di avere un potere di acquisto più alto? I rendimenti mettono in difficoltà soprattutto le aziende che hanno spostati le loro revenue e i loro guadagni più in là nel tempo e lavorano molto anche sul debito. Perché? Perché se i tassi crescono nel tempo, quindi i tassi che stiamo guardando, i rendimenti che stiamo guardando sono per esempio del decennale americano, no? Se crescono vanno a rosicchiare che cosa? Vanno a rosicchiare i guadagni futuri ed ecco che le growth tendono a soffrire di più. Però in questo momento è importante notare anche un'altra cosa, non c'è stata rotazione, non c'è stata una grande rotazione dal punto di vista settoriale, non è che il mercato è andato in maniera forte, si è posizionato sul settore delle value o sul settore delle growth. No, sta scendendo in maniera, diciamo così, diffusa, però c'è chi scende di più e chi scende di meno. La cosa importante è che, ripeto, andiamo sempre ad unire i puntini e cercare di capire, senza farci prendere dal panico, perché sta scendendo tutto, cosa sta succedendo? In prima vattura dobbiamo capire che ormai c'è molta globalizzazione sui mercati. Che cosa intendo dire? Per esempio, quando la sessione asiatica chiude e il Nikkei 225 è sceso, questo tende a... o il China A50 o il CSI 300, insomma, quando la sessione asiatica non va così bene, tende questo ad influenzare, che cosa secondo voi? La sessione europea. La sessione europea viene anch'essa influenzata dai rendimenti, i rendimenti dal mondo obbligazionario in realtà, e quindi in maniera indiretta dai rendimenti, i rendimenti stanno tutti quanti salendo. Questa salita dei rendimenti va ad impattare anche sul pre-market americano. Il pre-market americano dei rendimenti, infatti, sta salendo, siamo tornati sopra l'1,5%, e questo influenza negativamente, potrebbe influenzare negativamente l'apertura dei mercati americani. Se poi a questo ci mettete la reazione del dollaro, che sta agendo da bene rifugio di breve termine, il dollaro, ragazzi, quando ve lo siete mai chiesto, ma quando chiudono queste obbligazioni? Tutte queste obbligazioni che sono cash, no? Vengono chiuse. Ma questo cash dov'è che va a finire? Beh, gran parte di questo cash finisce, per esempio, sul dollaro americano, soprattutto se c'è da proteggersi. Cioè, se non sta andando, come vi dico sempre, seguite i soldi. Se questo cash non va sul mercato azionario, dove va? Beh, finisce sul dollaro. E il dollaro che cosa impatta negativamente? Emerging market, per esempio, e le materie prime. Tutti quelli che erano posizionati per l'inflazione, in questo periodo in cui i mercati azionari stanno dando più filo da torcere e non si sa bene che direzione vogliono prendere. Bene, per tutti quelli posizionati sulla pressione inflazionistica, i profitti sono arrivati. Questa, guardate, vi faccio vedere, visto che ce l'ho aperta qua, vi faccio vedere anche questa tabella con come si sono comportate le large cap nei confronti delle small cap. E vedete che le small cap hanno sovraperformato le large cap. Quindi, questo per dirvi che cosa. Allora, è sempre fondamentale avere una visione macro e guardare la visione macro, ma questa visione macro, aggiungere anche la visione poi finanziaria a quello che sta succedendo sulla finanza. E la finanza ce l'ha cominciato a dire che un cambiamento, una transizione, la stiamo attraversando. Perché dico questo? Perché l'oro ha smesso di salire. Eppure in un territorio di stagflazione, l'oro dovrebbe essere neutrale e rialzista, non di certo ribassista. Ma la seconda sorpresa è stata quella del Russell 2000, delle small cap che avete visto prima, hanno sovraperformato le large cap. Avete visto che nonostante il dollaro americano stesse salendo, il comparto delle materie prime non ha sofferto così tanto la salita. E guardate, ve lo dimostro con, facendovi vedere, mettiamo il Bloomberg Commodity Index. Qui dentro, ragazzi, ci sono, c'è un paniere di 19, di 19 materie prime. E che cosa vediamo? Guardate un po'. Il Commodity Index di Bloomberg continua a salire. Guardate, ha completato un ABCD pattern. Ha fatto prima questo impulso rialzista, ritracciamento, nuovo impulso rialzista. Ragazzi, le materie prime ormai sembrano inarrestabili. Non so se avete visto, il cotone è stata una delle mie, dei miei rammarichi, perché non mi ha permesso di entrare. È stata così veloce questa esplosione. Non ho fatto in tempo ad entrare. E qui un'altra cosa ve la voglio, ve la voglio dire importante. Mai rincorrere i prezzi. Molti studenti nella Trading Room mi hanno chiesto, cavolo Marco, il cotone ci è scappato. Che cosa facciamo adesso? Entriamo adesso? È troppo tardi. Non si rincorrono le posizioni. Abbiamo un processo, abbiamo una strategia. La strategia ci dice il segnale di ingresso. Se perdiamo il segnale di ingresso, quell'opportunità è persa. Non c'è problema, ce ne saranno altre. Io spesso vado a guardare non solo la volatilità, ma anche la volatilità della volatilità, la cosiddetta vol of vol. Che cos'è la volatilità della volatilità? Altro non è che il VVIX, quello che viene chiamato sul mercato VVIX. Il VVIX è la volatilità misurata sul VIX, ok? Mentre il VIX misura la volatilità implicita sull'S&P 500, il VVIX misura la volatilità implicita sul VIX. Quindi, se ci pensate, è un'informazione importante, ma è ancora più importante, almeno per quanto riguarda il mio processo e quello che tengo d'occhio io, è andare a guardare come il rapporto tra il VVIX e il VIX varia, soprattutto perché tende a crollare e quindi a rompere fortemente verso il basso quando c'è l'inizio di un crash di mercato. Volevo farvi vedere il VVIX. Allora, il VVIX innanzitutto è questo. È la volatilità, vedete, è il VIX Volatility Index. Eccola qua. Quindi è la volatilità sul VIX. E vedete che questo valore tende a schizzare verso l'alto, può essere riassorbito, sta spesso sui valori qua in basso, intorno ai 100, ma a me quello che interessa spesso misurare è il VVIX diviso, quindi come il rapporto, diviso il VIX. Quindi, se ve lo faccio vedere, e solitamente faccio click, ok, perfetto, mi vado a guardare le linee, non mi serve guardare le candele giapponesi, e voglio farvi vedere, vi vado anche un po' sul settimanale, così capite meglio quello che intendo. Ecco, sul settimanale, tende questo rapporto, vedete, ne avevamo parlato tempo fa, me lo ricordavo perché vi avevo segnalato questo rimbalzo che c'era stato, tende a scendere velocemente quando i mercati tendono a entrare in un forte, in un crash, o in un forte momento bearish. Invece, per quanto riguarda questo ultimo periodo, eccolo qui, lo vedete che siamo comunque scesi, perché queste informazioni sono importanti? Perché queste informazioni mi fanno capire se abbiamo raggiunto un pavimento, per esempio, mi fanno capire se questo valore qua, sul quale potrebbe rimbalzare questo rapporto, potrebbe essere il pavimento per il VIX, e quindi il VIX vuol dire che si riassorberà, tornerà in momenti di tranquillità. Quindi ricordatevi questa cosa, io è uno dei parametri che guardo. Un altro parametro importante che guardo è riguarda, e fatemi, scusate il gioco di parole, riguarda la volatilità, o meglio, il rapporto tra la volatilità realizzata e la volatilità implicita, perché che cosa mi dice questo rapporto? Beh, mi dice se i partecipanti ai mercati stanno facendo edging, si stanno coprendo, coprendo in che modo? Comprando delle put. Quindi, se i valori accelerano di questo rapporto, ripeto, volatilità realizzata su volatilità implicita, quello che mi stanno dicendo è che ci sono tanti istituzionali, hedge fund, che stanno facendo edging, si stanno proteggendo. Dal punto di vista psicologico, che cosa è successo ultimamente? Beh, quello che è successo è che ogni volta che c'è stato un ritracciamento e ovviamente questo rapporto volatilità realizzata su volatilità implicita si è alzato e quindi vuol dire che gli investitori hanno pagato tanto per coprirsi, ma la copertura, la coprizione, la copertura l'hanno buttata nel cestino. Che cosa vuol dire che l'hanno buttata nel cestino? Vuol dire che non è servita a niente. Perché? Perché i mercati hanno, sono riandati verso l'alto, quindi la volatilità si è riassorbita e i mercati sono riandati verso l'alto, quindi la loro copertura l'hanno persa e quella copertura anzi ha tolto del profitto al profit and loss, ma del resto le coperture servono anche a questo, no? E adesso psicologicamente secondo me quello che sta succedendo e se vuoi andare a vedere il rapporto attuale oggi che c'è tra volatilità realizzata e volatilità implicita quello che vediamo lo sapete che cos'è è che i valori sono bassi quindi hanno smesso di comprare di comprare protezioni. Ora questo può voler dire due cose o che non si aspettano quindi non c'è più nulla di cui coprirsi e quindi sono tranquillizzati e questo è quello che ci stanno trasmettendo quello che stanno dicendo in maniera implicita ovviamente indiretta è che i mercati da qui possono rimbalzare che la discesa che c'è stata ha toccato il pavimento questa è una prima considerazione la seconda considerazione potrebbe essere che hanno smesso di comprare protezione perché hanno si sono protetti da quello che dovevano e hanno nel frattempo chiuso le loro posizioni long perché prevedono l'entrata di un momento più ribassista per i mercati. Questo dato se dovesse essere debole potrebbe mettere tra virgolette a rischio la decisione o potrebbe far riflettere meglio la Federal Reserve la banca centrale americana nei confronti del tapering che potrebbe partire a novembre almeno questo ci aveva detto Powell a settembre. Qual è il problema di un dato debole dell'occupazione ragazzi? È che non riesce il il mercato non riesce a il mercato ragazzi vuol dire chi partecipa al mercato non è positivo sulle possibilità di crescita e future del prodotto interno lordo perché se manca lavoro se le aziende non riescono ad assorbire e ad assumere probabilmente non riescono nemmeno a raggiungere la loro full capacity in termini di produzione o magari la loro visione non è così delle aziende non è così sicura sulla crescita economica dei prossimi mesi e questo necessariamente si riversa anche sui mercati finanziari ed ecco che potremmo vedere un sell off non solo sul dollaro americano ma magari avere un approccio parlo degli investitori che mira un pochino più che tiene più d'occhio il rischio che quindi è meno aggressivo torniamo a parlare del debt ceiling perché ieri il senato ha approvato e vi dico la verità io non l'ho capito mica se l'ha approvato ma mi sembra di aver capito che mi sembra di aver capito che ha approvato un primo innalzamento del tetto del debito il numero adesso non me lo ricordo a memoria ma insomma ne ho parlato nel canale telegram di questa mattina ma soprattutto ha rimandato la vera grande decisione su che cosa fare con il debt ceiling l'ha rimandata a dicembre ai mercati è sicuramente piaciuta questa notizia vi dico la verità a me non è che piace troppo mi ha fatto venire un'altra domanda che vi pongo qua e vi giro qua in maniera ovviamente interrogativa per farvi fare anche a voi per darvi anche che modo a voi di riflettere su questa questione torniamo sempre alla decisione della Federal Reserve sul tapering il fatto di aver rimandato questa decisione secondo me potrebbe mettere Powell già veramente mi chiedo veramente Powell vuole con un tetto del debito che ancora non è stato definito bene è stata rimandata la decisione un numero del lavoro che oggi potrebbe non essere così alto come ci si aspetta staremo a vedere ancora non è uscito però se dovessero incastrarsi queste due dinamiche veramente Powell vuole mettere a rischio la finanza e l'economia annunciando il tapering proprio a ridosso e qui chiudo il cerchio della dello scadere del suo mandato a febbraio scade il mandato di Powell tutto questo per dirvi Powell vuole veramente lasciare questa eredità quindi vuole essere un po' vuole rischiare di essere il capro espiatorio nel caso in cui ci sarà a febbraio un passaggio di consegna tra lui e il suo successore il suo maschile o femminile potrebbe essere una donna appunto e quindi in questo caso vuole essere il responsabile ricordato nella storia perché poi ti si ricordano non tutte per le cose buone che hai fatto se ne ha fatte Powell ma si ricordano per l'ultimo errore quello l'ultimo pezzo della tua carriera vuoi essere ricordato come la persona che ha fatto di nuovo crollare l'economia e quindi dare anche la facilità al successore di poter dire mi dispiace io eredito quello che mi ha dato Powell che ha fatto un po' di casini e quindi adesso cercherò di rimettere e far rifare anche la figura dell'eroe non lo so io non sono così convinto due un paio di grafici che volevo condividere con voi nella giornata di oggi abbiamo parlato vi ho parlato prima di perché il dato del non far per ol potrebbe essere positivo o alcuni pensano che sarà positivo perché ci sono stati due dati positivi uno è stato quello dell'adp employment reports vedete che ha riportato un dato di 568 mila unità il dato precedente era 340 mila non so se ve lo ricordate e poi l'altro dato importante è quello invece dei jobless claims che sono scesi rispetto alla lettura della settimana precedente sono scesi a 326 mila lo vedete lo vedete qua la lettura precedente era 348 che è iniziata per la settimana che è iniziata l'attenzione che è iniziata che è iniziata